L'Unione degli Universitari ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica chiedendo il sequestro preventivo di tutti i test di ingresso alla Facoltà di Medicina che si sono svolti a Bari, comprese le brutte copie, perché solo così il Ministero potrà verificare se ci sono state irregolarità. L'ho sottolineato il coordinatore nazionale del LUDU Gianluca Scuccimarra ieri a Bari per discutere con la stampa del caso del pacco risultato manomesso dal quale in un'aula della Facoltà di Economia di Bari sarebbe stato sottratto un plico contenente le due copie, belle e brutta, con le domande dei test. Le brutte copie, ha spiegato Scuccimarra, sono ancora all'Università di Bari e il Ministero ha potuto vedere solo le belle, ma solo confrontando entrambe si possono verificare eventuali irregolarità. Inoltre, ha aggiunto Scuccimarra, ci è giunta voce che nei giorni precedenti al test qualcuno volesse mettere a disposizione già le risposte. Poiché le domande erano uguali in tutta Italia, se qualcuno avesse avuto la possibilità di avere quel plico prima del previsto avrebbe potuto diffondere le domande, ma anche individuare risposte. Infine, Scuccimarra ha annunciato che partirà da Bari il ricorso amministrativo che ogni anno facciamo partire dopo i test di medicina al termine dei quali si verifica qualche irregolarità, anche se mai eclatanti come questa di Bari.